Ciao a tutti! Oggi prepareremo i risotto ai frutti di mare. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 35 minuti. Gli ingredienti sono frutti di mare, pepe, dato bimbi, vino bianco, pomodori tagliati a pezzetti, aglio e cipolla, prezzemolo, sale, zafferano, olio, riso e acqua. Diamo il via alla ricetta. Inserire nel boccale la cipolla con l'aglio e l'olio. Chiudere. 3 minuti, 100 gradi, velocità 4. Adesso posizioniamo la farfalla, chiamiamo i frutti di mare, chiudiamo e andiamo a insaporire per 3 minuti 100 gradi, velocità 1. Adesso uniamo il vino bianco e facciamo insaporire per 2 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. e poi facciamo insaporire per 2 minuti. Prendiamo il pomodoro. Prendiamo il pomodoro. Mettiamo il misurino. 3 minuti. 100 gradi anti-orario velocità 1 adesso uniamo l'acqua il riso lo zafferano un cucchiaino di dado bimbi il sale e un po' di pepe nero e andiamo a cuocere per 15 minuti 100 gradi anti-orario velocità 1 il risotto è pronto andiamo a impiattare risotto ai frutti di mare grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!